Buonasera ragazzi, eccoci di nuovo e oggi dobbiamo fare un ripasso sui pronomi diretti cioè facciamo applicazioni sui pronomi diretti perché intanto abbiamo già spiegato tutto questo in classe facciamo un ripasso sui pronomi diretti, facciamo degli esercizi e pronomi diretti allora la prima persona singolare mi, la seconda persona singolare ti, la terza persona maschile lo, la terza persona femminile la, la terza persona maschile o femminile per forma di cortesia la e questo ragazzi è il plurale, la prima persona plurale ci, la seconda persona plurale vi, la terza persona regolare, la terza persona plurale scusatemi li e la terza persona plurale femminile le allora i pronomi diretti lo, la, la, li, le, mi, ti, ci, vi si usano per sostituire nomi di persone, cose oppure animali esempi scusi dove è il calibro? allora ragazzi cosa faccio? cancello questo e metto al suo posto un pronome e quindi è lì vicino alla festa lo trova subito cosa trova subito? trova il calibro quindi se non voglio scrivere il pronome cosa fa? dico, dico, è lì vicino alla fresa trova subito il calibro e invece di dire il calibro dico lo trova subito Daniela stai guardando la tv? no, ora non la guardo quindi al posto di la tv metto la e quindi la guardo ok ragazzi? signora Rossi la chiamo l'onidì ragazzi quando fate i compiti li facciamo stasera pruno hai le forpici? no, non le ho e quindi queste le questo pronome è al posto della parola le forpici i pronomi diretti? di solito i pronomi diretti si trovano prima del verbo e rispondono alle domande che, chi e che cosa ok? bruna, dove sei? ti sento ma non ti vedo cioè io sento te ma non vedo te mario, chi ti porta alla stazione? mi porta dario, lucia e tina e vostri amici vi cercano da due ore ci cercano davvero? e quindi cercano noi davvero? e qua cercano voi da due ore allora io metto questo pronome diretto quando c'è un verbo all'infinito presieduto da un verbo modale il pronome diretto va unito all'infinito prima del verbo modale quali sono ragazzi i verbi modali? brave, dovere, potere, volere Teresa, chiudi la finestra per favore? no, voglio lasciarla aperta quindi questo è giusto e anche questo modo è giusto Teresa, chiudi la finestra per favore? no, la voglio lasciare aperta e quindi sia così sia così è giusto il pronome lo può anche sostituire un'intera frase esempi chiara viene al cinema domani sera? e quindi non lo so allora e quindi la frase sarebbe così non so se vengo al cinema domani sera oppure non vengo allora al posto di tutta della frase intera posso sostituire con il pronome lo no, non lo so oppure si lo so ali, sai dove sono i miei attrizi? no, non lo so allora davanti a parole che iniziano per vocale i pronomi di terza persona singolare lo, la, la possono prendere l'apostrofo ed esentano l'apostrofo però gli e le al pronare non cambiano mai quando accompagni Laura a Roma l'accompagno domani e quindi ragazzi abbiamo cancellato la a qua che è al posto di Laura e perché l'altra parola inizia con vocale abbiamo messo l'apostrofo invece qua aggiustate voi le becceclette le becceclette se li aggiustiamo e quindi le qua ragazzi finisce con vocale e questa parola inizia con un vocale però non cancelliamo niente non mettiamo apostrofo perché con lei e con lì non facciamo niente spero che sia stato utile ragazzi e alla prossima